Ciao a tutti, siamo nel cuore dello shopping romano, Via del Corso, oggi è 14 dicembre 2013, sabato, c'è il Grand Pier, tanta gente, siamo di fronte a Piazza Venezia, l'Altare della Pia, Christian inquadra bene queste meravigliose luci di Natale, tanta gente, qualche goccia giusto così per inumidire, dicevo qualche goccia giusto per inumidire lo shopping, comunque adesso il sole se n'è andato da tempo però non piove, quindi un augurio a tutti quanti coloro che vogliono venire a Roma di farlo soprattutto sotto Natale perché Roma è particolarmente magica in questo periodo, veniamo da Piazza Ramona ma anche Via del Corso come vedete offre un'atmosfera e un calore come poche altre città al mondo.